e ora arriviamo su... ...teniamo un'altra cosa da noi, ma non si può andare bene, perché ci sono un po' di questa canzone, e poi si riesce, no? Quando una cosa è andata e si riesce, ci sono tutte le piazze che l'incuna non è un testo. Camineras è uno brano che non ha scritto Noemi e lui il progetto Tramas, ha scritto una canzone che però... perdonai, un'artista che la donna grande ispirazione, sì. Deccandose Vittichetta. 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 Questa, io ho capito, tecnicamente. E' parlato di Vittichetta Espirazione Vittichetta. Paola, sì ovviamente. Вispetandose Vittichetta, se c'è una canzone, se c'è una canzone, se c'è una canzone, sembra una rosetta? Sì, cosa mi è che pensate di Stefano? De Stefano? Tu fatti, se stava arrivando un arro! Un arrogo proprio ogni anno su teatro quando ho fatto i miei parodi, un arrogo di vita ho perso il mio amico da ogni volta che v bestevelo. C'è... come si chiama la sigla? C'è la sigla? No ora, c'è la sigla! cominciare a fare le mie parodi anche a imprendersi e ogni giorno cominciare a andare a camminare con il suo cuore deve essere una cosa che mi ammanna non vuoi che tu commenti sul campanello del Pavlov con Susani non cito il ruvru su e non pensando su questa parola proprio come te un simbolo da ricordare questa esperienza e si decide di andare a camminare poi nanti si usa proprio queste canzoni chiamate Beddio questa prima parola questa prima che poi scritto non do una cosa ancora ancora non scopriamo mi piace questa cover di Andrea Parodi camminare non scopriamo non scopriamo non scopriamo non ma ecco Grazie a tutti. 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 su. a tutti.